rivoluzione della sosta a pesaro sopralluoghi per due parcheggi multipiano in centro riparti il progetto per la pista ciclo rotellistica ridotto l'abbattimento di alberi dengue in frenata gli ultimi nuovi casi segnalati risalgono a ottobre frazioni di apecchio e cagli da un mese senza telefonia cna grida allo scandalo museo dei bronzi dorati di pergola un milione di euro per renderlo immersivo e inclusivo una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 8 novembre che apriamo occupandoci di una nuova strategia della sosta a pesaro il sindaco andrea biancani infatti progetta due nuovi parcheggi multipiano ai margini del centro storico vediamo l'idea che ci siamo dati o meglio l'obiettivo è quello di realizzare parcheggi in struttura ma anche di riuscire ad esempio ad aumentare di implementare quelli che sono i parcheggi a raso l'obiettivo principale è anche quello di riuscire a togliere le auto dal centro storico oggi il centro storico è praticamente pieno di macchine ma anche quello di consentire sia le persone che vengono a lavorare ma anche ai tanti cittadini pesaresi non solo che vogliono venire a fare un giro in centro fare comprare in centro di trovare comunque un parcheggio in maniera in modo comodo e tra le aree individuate abbiamo visto che potrebbe essere adatto per realizzare un parcheggio in struttura sia il parcheggio del carducci l'area del carducci oppure anche pensare di realizzare un parcheggio in struttura nella zona davanti alla caserma diciamo che mentre inizialmente fino a qualche anno fa si pensava di fare parcheggi sotto sotterranei ma abbiamo visto che ci sono tantissimi problemi legati a tutta la parte archeologica di cui è ricca la nostra città oggi stiamo pensando nei parcheggi in struttura ma dei parcheggi sopraelevati queste sono le due aree che al momento sembrano più adatte insieme a questo a questi progetti stiamo verificando la possibilità anche di allargare ampliare quello che il parcheggio in via della liberazione anche qui davanti alla caserma e cercando di migliorare quella che è la zona del parcheggio sotto gli ortigiuli oppure in un'altra area vicino a piazza falcone borsellino quando pensiamo un parcheggio non possiamo pensare sempre come se fosse un'area brutta in realtà vorremmo presentare e portare avanti i progetti di riqualificazione urbana prevedendo soprattutto le nuove alberature prevedendo anche delle aree verdi e quindi cercando anche di riqualificare quello che sono le zone dove andremo a fare i parcheggi ovviamente tutti i progetti di cui stiamo parlando la tutela rispetto alle piante esistenti soprattutto quelle piante che ormai hanno da decine di anni hanno anche un valore molto importante dal punto di vista ambientale l'obiettivo è riuscire a fare dei progetti che tutelano anche le piante e dal tema dei parcheggi passiamo a quello degli impianti sportivi riparti il progetto della pista ciclorotellistica pesero tanto auspicato dalle società sportive quanto però contestato dalle associazioni ambientalistiche per quanto riguarda l'abbattimento di oltre 200 alberi progetto che ora è stato rivisto cercando di contenere l'impatto ambientale riparte il cantiere per la realizzazione della pista ciclorotellistica in zona torraccia in un'area di 105 mila metri quadrati nell'area compresa fra il fiume foglia e il retro di vitrifrigorena i perrossini lo annunciato oggi il sindaco di pesero andrea biancani per un progetto rivisto al fine di poter contenere al massimo gli abbattimenti di alberi come d'accordi presi con la consulta della sostenibilità il progetto infatti a luglio si era arenato davanti ad un'ondata di polemiche in merito a un disboscamento reputato sconsiderato e non concordato secondo biancani dopo approfondimenti delle 240 piante stimate nella previsione progettuale fatta antecantiere si è riusciti a scendere a 164 abbattimenti risparmiando 76 alberi tra quelli che compongono la vegetazione spontanea di un'area in cui l'obiettivo secondo lo stesso sindaco è quello di realizzare un percorso ciclabile immerso in un'area boscata in stato di degrado e sconosciuta ai più le prossime operazioni saranno la bonifica bellica e le operazioni di scavo che si concentreranno nel periodo invernale l'obiettivo è quello di portare a termine entro il 2025 un cantiere da 2 milioni 200 mila euro a beneficio delle federazioni ciclistiche con un circuito da 2 chilometri 200 metri e di pattinaggio da corsa con una pista rotellistica di 600 metri il comune anche predisposto un progetto di ripiantumazione in compensazione da condividere con la stessa consulta della sostenibilità il presidente della provincia di pesro e urbino giuseppe paolini ha oggi assegnato le deleghe del nuovo consiglio provinciale l'assessora di fossombrone laura giombini è stata nominata vicepresidente il consigliere di urbino riano giovanelli ha ricevuto la delega alla programmazione scolastica viabilità ambiente alle vice sindaco di mercatello sulle metaura gabriele giovanini edilizia scolastica alle sindaco di mercatino conca omar lavanna pari opportunità la consigliera di pesro anna maria mattioli programmazione strategica e rapporti con enti locali e regione marche alle sindaco di valle foglia palmiro ucchielli e cambiamo ora argomento perché secondo il report della regione marche la situazione riguardanti i casi di denga fanno segna un deciso miglioramento con un numero di contagio ormai sporadico attualmente infatti si registrano 144 casi confermati 70 probabili e 7 possibili con la curva di incidenza basata sulla data di insorgenza dei sintomi in costante discesa le ultime segnalazioni sono state infatti verificate nei giorni 20 22 e 27 ottobre e da più di un mese imprese cittadini della frazione di secchiano seravalle di carda e valdara nei comuni di a pecchio e di pianello di cagli lamentano il completo blackout della telefonia mobile e fissa a denunciarlo il presidente della cna di cagli lino conti che segnala lamenti le proteste per una situazione di isolamento all'origine sembra ci siano problemi negli apparati di trasmissione delle segnali da parte delle uniche due compagnie che in zona avevano un discreto segnale di ricezione team ed eolo un disagio gravissimo che la cna invoca che venga risolto alle più presto ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviare il nostro numero di whatsapp 370 366 72 10 viviana una nostra telespettatrice ci invia immagini che riguardano un censurabile abbandono di rifiuti sulla sede stradale fuori dai cassonetti aggravato dalle fatto di essere di fronte ad un asilo nido come il macondo di via negrelli una situazione come si segnalano che continua a ripetersi nelle quartiere ed ora ci spostiamo a pergola per occuparci di un'eccellenza culturale assoluta del nostro territorio il museo dei bronzi dorati sul quale in procinto un miglioramento dell'offerta con un investimento di un milione di euro vediamo sarà un museo completamente immersivo e interattivo ma sarà anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili un progetto voluto dall'amministrazione comunale che ha vinto anche il bando della regione Marche per la riqualificazione delle sedi dei luoghi per l'accesso turistico e per la promozione turistica un progetto da un milione di euro di cui oltre 640 mila finanziati dalla regione e la restante parte dal comune di pergola un progetto che sposa la storia con la tecnologia per raccontare in maniera emozionante un viaggio lungo oltre 2 mila anni stiamo cercando di fare al meglio per diciamo avanzare al meglio ripeto anche a livello amministrativo per risolvere anche dei problemi e trovare delle soluzioni di valorizzazione che aiutino il pubblico ad arrivare con semplicità ai capolavori che conservano i nostri musei all'interno di un importante concetto che quello del sistema museale nazionale io ricordo quando due anni fa abbiamo fatto proprio qui a pergola un sopralluogo con il direttore generale dei musei massimo sanna e proprio in quel contesto abbiamo cominciato a parlare ripensare proprio a questo cioè come diciamo valorizzare al meglio questo questo gruppo in questo meraviglioso sito che è pergola 9 quintali di oro e di bronzo forgiati ormai duemila anni fa per dare vita all'unico complesso bronzo equestre d'epoca romana esistente al mondo come dicevamo tecnologia storia arte e cultura con nuove sali immersive led wall touchscreen sistemi multimediali per accompagnare il visitatore del museo lungo tutte le sezioni museali abbiamo infatti la sezione archeologica che ospita i bronzi dorati ma abbiamo anche una sezione numismatica abbiamo una sezione che a sua volta ospita tele e sculture e linee datate tra il quindicesimo e il diciottesimo secolo ma anche una sezione risorgimentale perché ricordiamolo pergola è medaglia d'oro al risorgimento e poi una sezione di arte contemporanea con le opere del maestro walter valentini i pilastri della nostra amministrazione hanno lo sviluppo turistico della città e le grandi opere in questo progetto raccordiamo tutti e due quindi lo sviluppo appuntare nello sviluppo turistico di pergola di fare grandi opere la scelta era stata chiara abbiamo già indicato un assessorato alle grandi opere grandi opere come questa che ho delegato all'onorevole antonio baldelli non che vice sindaco quindi assessorato alle grandi opere opere come queste che guardano al futuro di pergola oggi c'è stato un sopralluogo del ministro delle infrastrutture matteo salvini sulle versante umbro della galleria della guinza si punta a rendere percorribili le tunnel entro l'estate del 2026 al momento con un'unica direzione umbria marche verso mercatello sulle metauro lo stesso salvini è però intavolato con anas ragionamenti per la possibilità di un senso unico alternato e restando in tema di trasporti marchigiani questa mattina è partito da ancona il primo volo per barcellona con la compagnia volotea ad inaugurare questa nuova tratta sono stati 149 passeggeri compleanno speciale oggi a fano per i cento anni di silvano pensi non di nicola barbieri attuale sindaco di mondolfo il sindaco luca serfilippi assieme allo stesso barbieri ha voluto mazzare silvano con una visita nella sua casa a sassonia a pesaro continua la pulizia straordinaria delle caditoie nei quartieri della città i prossimi interventi di marche multiservizi dall 11 alle 15 novembre si concentreranno ai margini del centro storico a cominciare da viale piave e viale verdi per continuare con viale vanzolini corridoni cantarini postumo picciola cavallotti virgilio raggi battelli via del maino e via la marca sabato 9 e domenica 10 novembre a zobe e raccano figlia aprono alle pubblico il centro baricentro di pesaro in via faggi per una esposizione didattica dedicata al mondo dei ragni ed altre creature che popolano i nostri giardini e le nostre case dopo il successo della prima domenica alle teatro accademia c'è una nuova compagnia teatrale pronta a salire sulle palco della biosfera per la rassegna dialettale teatro in piazza il 10 novembre alle ore 17 e 30 sarà la volta dello spettacolo dorisette in piazza della piccola ribalta e giunge a conclusione anche un altro progetto artistico nato in quest'anno di pesaro capitale vediamo si avvia verso l'ultima tappa il progetto espositivo a natural una serie di cinque mostre proposte da spazio torso all'interno del programma di pesaro 2024 capitale italiana della cultura che ha voluto giocare sulle parole del titolo dell'iniziativa in un anno dove natura e cultura sono al centro delle iniziative culturali del territorio le prime quattro mostre avevano un focus tematico su alcuni argomenti noi avevamo messo in relazione il binomio natura e cultura per andare a vedere quali sono i limiti dove frizionano dove invece si sposano e prima avevamo fatto dei focus tematici io e altro corpo e ambiente naturale artificiale che riguardava più materiali e organico in organico mentre invece l'ultima mostra che è quella più prestigiosa cui tengo veramente è una mostra invece che ribalta tutti questi temi nei generi artistici e quindi abbiamo degli ospiti di prestigio che sono nicola samori matteo fato riccardo baruzzi davide tranchina e rudy cremonini e michelangelo galliani e ognuno a suo modo ha mostrato quanto sia diventato innaturale andare a trattare i generi che hanno contraddistinto l'arte nella storia usano ciascuno un linguaggio e soprattutto un segno distintivo però stiamo parlando di sei artisti che sono affermati sono mezza carriera sono molto rappresentativi della dell'arte contemporanea italiana quindi nomi di prestigio che portano se stessi all'interno di questo concetto della natura e della cultura però è ovvio che ognuno porta questo meta linguaggio che sia nella pittura piuttosto che nella scultura o nell'installazione quindi si è voluto mettere alla prova l'arte che cos'è esattamente un tentativo di eternità rispetto al nostro vivere quotidiano che è molto effimero una mostra così come la progetto stesso che quindi gioca con le parole come lo stesso vice sindaco pesarese racconta e che allo stesso tempo testimonia l'importante lavoro di valorizzazione portato avanti da spazio torso è un gioco attorno al tema della natura della cultura e a cinque appuntamenti questo è quello conclusivo di questo 2024 che spazio torso che una galleria privata indipendente che ha aperto in questi mesi in realtà in fine 2023 a pesaro in via diaz contribuendo anche a una rinascita e una vivacità della via composta anche di altre gallerie di altri studi di artista e ospita normalmente artisti anche artisti insomma a cavallo tra l'asse tra pesaro e bologna giovani artisti con delle bi personali che hanno accompagnato insomma gli ultimi mesi una tre giorni importante quest'estate che anche riscoperto la funzione della piazzetta davanti allo spazio torso che è all'inizio della via dove qualcuno ricorderà fino a pochi anni fa un mini market e questa volta invece dedicata a una collettiva di artisti che alcuni già calcato diciamo musei e sale espositive pesaresi altri per la prima volta ma di livello ormai nazionale internazionale come Matteo Fatto come Nicola Samori come diversi altri e quindi un'occasione diciamo per questo caso per accogliere artisti affermati tutta una generazione degli anni degli anni settanta quindi già ormai consolidati anche nella conoscenza del grande pubblico quindi diciamo un gran finale per un anno importante che torso mette a disposizione come gli altri momenti per arricchire ancora questo programma che non finisce di pesaro 2024 un ideale ponte di solidarietà tra pesaro e uganda è quello che si costruirà sabato 16 novembre attraverso un evento organizzato dal terziario donna conf commercio un momento per stare insieme e divertirsi ci sarà musica con Clarissa Vicky e con questa cena noi permetteremo a tre donne ugandesi residenti in un piccolo villaggio che si chiama Moroto in Karamoja di aprire la loro attività lavorativa e quindi di poter migliorare radicalmente le loro vite. Sono tre donne praticamente che hanno fatto un corso da OS e sono riuscite a diventare quindi OS all'interno di questa comunità e si appoggiano ad un locale comprato da Africa Mission quindi diventa praticamente per noi essenziale poter contribuire a questa loro attività in quanto è una comunità che vive principalmente di pastorizia quindi queste tre ragazze grazie anche alla nostra cena e alla nostra generosità potranno acquistare prodotti strumentazioni medicinali che permettono la cura di questi animali che sono la sussistenza dell'intera comunità di Moroto quindi diventa per noi ovviamente un modo per stare insieme per conoscerci per ascoltare come diceva la presidente musica dal vivo perché ci sarà Clarissa Vicky quindi una voce meravigliosa e conosciuta a Pesaro e quindi vi aspettiamo il 16 novembre l'hotel Flaminio numerosi perché dobbiamo essere tantissimi sia per stare insieme sia per contribuire a questa grande iniziativa. Sport giovani e nutrizione un legame sempre più stretto che verrà approfondito da un progetto che unisce la società di Palavolo Megabox Vallefoglia e lo stesso comune. Vediamo. L'11 novembre al Teatro Santi di Bottega si terrà Gioca con il Cibo appuntamento che rientra nell'ambito del progetto No Profit Mega Futuro allestito dalla Megavolle Next Gen che mira a supportare a 360 gradi giovani atleti nella loro crescita personale e professionale. Nell'occasione nutrizionisti spiegheranno come l'alimentazione influisca sul benessere, l'energia e la salute degli atleti trasmettendo ai giovani l'importanza di un corretto approccio consapevole al cibo. Nostra nuova generazione in questo momento abbiamo tante informazioni in giro e vogliamo insegnare a loro, insegnano loro come è importante ascoltare a loro stessi, come è importante vivere il momento e come è importante sentire. Questo tema l'imitazione è speciale perché è legato con tutti i nostri sentimenti, le nostre energie, benessere, salute e legato anche con sport perché come benzina cosa mangiamo e dopo mostriamo sul campo. Nell'occasione ci saranno le relazioni di nutrizionisti come Federica Romagnoli, Michele Rampino e Nicole Campitelli oltre alla giocatrice della Megabox nonché della nazionale campione olimpica Gaia Giovannini. Il tema della nutrizione sta diventando un orientamento necessario perché comunque la forma fisica si ottiene anche attraverso la nutrizione. Questa iniziativa è rivolta ai giovani, noi pensiamo di dare una dimensione della città di Vallefoglia con il forum dei giovani che costruiremo, io ho dato una delega al consigliere Gianluca Vichi che è uno dei consiglieri più giovani per costruire un rapporto continuo e costante, questa è la prima iniziativa fatta insieme col mondo dello sport perché Megabox è il mondo dello sport, per rendere protagonisti giovani del futuro della città di Vallefoglia e questo lo vogliamo fare anche con le donne perché pensiamo che possono essere le ragazze e i ragazzi protagonisti di questa città. Il binomio con Megabox è molto importante, per noi è anche un impegno finanziario notevole perché mettiamo 2 milioni e 400 mila euro per portare il palazzo dello sport a 10 metri 1.500 posti per fare i campionati italiani e europei in quel palazzo dello sport, per noi è un impegno vero, serio sui giovani, sul futuro, sullo sport. E diciamo sarà pronto il palazzo intorno all'inverno del 2025? L'impegno che si è preso, si è presa la ditta, l'impresa con me è Natale 2025, sono già iniziati i lavori, abbiamo spostato anche il mercato con non poche possibilità, abbiamo dato una mano a trovare gli spazi necessari per giocare, fare gli allenamenti nelle strutture qui di Vallefoglia che non era semplice nemmeno quello, quindi lavoriamo d'amore e d'accordo. E con quest'ultima notizia termina qua questa nostra nuova edizione di Rossini News, prima di lasciarvi però le previsioni delle meteo e vi ricordo la nostra programmazione in onda sul canale 80 si comincia subito dopo questa primissima edizione del nostro telegiornale con la natura della Cultura Magazine, lunedì, mercoledì, venerdì, li vedete agli orari in grafica, vi ricordo anche il riassunto della settimana che potrete rivedere sabato alle 12 alle 19 e domenica alle 15 alle 21, nell'occasione di questa sera parleremo di Pesaro 2024 alla scoperta di Cartoceto. La nostra prima serata questa sera alle 21 con il format CISL in forma, per questa occasione parleremo della AD Consum, ovvero l'associazione a difesa dei consumatori e dell'ambiente. Vi ricordo anche la nostra segna stampa perché domani mattina saremo sempre in diretta come sempre alle ore 7.20, diretta anche Facebook, potrete seguirci sul nostro sito, scaricate la nostra app, vi aspetta Marco Cadeddu e le repliche che vedete in grafica. È davvero tutto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata.